Il legame dei francescani con la Terra Santa ha origini antichissime. San Francesco nel suo viaggio verso Damietta sbarcò probabilmente a San Giovanni d'Acri e pose così le basi per la presenza francescana in Terra Santa, che da allora si sviluppò e crebbe fino ad oggi. Nel capitolo generale dell'Ordine, celebrato la Porzioncola in Assisi nel 1217, ben istituita la provincia medio-orientale dei Frati Minori. Nel 1342 Papa Clemente VI con le bolle, grazie a Sagimus e nun per carissime, gli ha di disposizioni per la nuova entità, articolando l'identità della missione francescana di Terra Santa in due ambiti distinti, ma connessi l'uno all'altro, cioè custodire i luoghi testimoni della redenzione e i luoghi santi e sostenere la presenza cristiana in Terra Santa e nel Medio Oriente. La custodia di Terra Santa opera in Israele, Palestina, Giordania, Libano, Egitto, esoli di Cipro e Rodi. Vi lavorano circa 300 religiosi chiamati da tutte le parti del mondo. Nell'ambito dei luoghi santi le attività primarie sono di carattere liturgico e pastorale. Milioni sono i pellegrini che giungono da tutto il mondo per incontrare nuovamente Cristo durante il loro pellegrinaggio nella terra di Gesù. Nelle liturgie al Santo Sepolcro, Betlemme, Nazareth e altri santuari, i francescani si impegnano a rendere la parola di Gesù concreta e tangibile a chi arriva nei luoghi della redenzione. Betlemme, Nazareth e Dominus Flevit sono solo alcuni dei 55 santuari presenti in tutta la Terra Santa, recuperati dalla custodia e gelosamente custoditi e tutelati lungo i secoli. L'accusa di Terra Santa dispone di 5 casa nova, confortevoli strutture per ospitare i pellegrini. Il secondo ambito è quello pastorale e sociale, orientato alle comunità cristiane del Medio Oriente. Innanzitutto le 24 parrocchie sparse principalmente in Terra Santa, in Siria e a Cipro. Accanto alle parrocchie le attività da sempre necessarie di carattere sociale educativo, sorte a favore della piccola comunità cristiana, istituti per bambini in difficoltà, casi di riposo e centri medico-assistenziali per anziani. Molto importante è l'opera delle case, nata con lo scopo di costruire centri residenziali, assegnare alloggi agevolati e contribuire alle spese di affitto delle famiglie povere, ristrutturare case in precarie condizioni. Tutto ciò è diventato ancora più drammatico ed urgente in Siria, dove la custodia di Terra Santa opera con 10 parrocchie sparse nell'intero paese e dove i francescani sono chiamati a sostenere concretamente milioni di sfollate e dispersi siriani, in particolare e in tutte le forme possibili, i fedeli delle loro parrocchie per infondere speranze in una terra massacrata dall'odio. Gerusalemme, Betlemme, Gerico e altri luoghi. Un totale di 14 istituti scolastici, più di 10.000 studenti distribuiti in Israele, Palestina, Giordania e Cipro per formare giovani cristiani, educare alla tolleranza e al pacifico rispetto, accogliendo studenti di ogni credo e religione. Ma non solo, la custodia promuove la sua attività di ricerca e formazione scientifica attraverso lo Studio Biblicum Francescanum, la Facoltà di Scienze Bibliche e Archeologia, fondata nel 1923, mentre attraverso l'Istituto Magnificat, una scuola di musica, forma musicisti ed insegnanti di ogni religione. I francescani non operano da solo in Terra Santa, ma sono inseriti in un pluriforme tessuto sociale e religioso. La loro opera fa parte di un intreccio di relazioni ecumeniche e interreligiose, uniche al mondo. Il rapporto con le altre chiese cristiane, in particolare quelle ortodosse, le relazioni con ebrei e musulmani, non passano solo attraverso istituzioni e iniziative speciali, ma innanzitutto sono vita quotidiana di ogni francescano. Da qualche anno la custodia di Terra Santa ha investito molto nella sua rete di comunicazione istituzionale. Ogni giorno la custodia di Terra Santa si fa annunciatrice di pace e testimoni di Gesù. Custodire significa così amare, curare e avere a cuore, qui dove lui ha voluto farsi uomo per la salvezza di tutti gli uomini. Custodire significa così amare, curare e avere a cuore, qui dove lui ha voluto farsi uomo per la salvezza di terra. Grazie a tutti.